ciao a tutti sono leonardo titolare del zone kayak alla base del divertimento in fiume c'è il comfort e la sicurezza andrò adesso a spiegarvi cosa ci possiamo mettere per proteggere le gambe dal freddo dell'acqua nei mesi estivi consigliamo un pantalone in neoprene che ci copra dalla vita fino a sopra il ginocchio questi qua sono pantaloni estremamente pratici estremamente comodi perché lasciano un'ottima libertà di movimento e nelle giornate più calde non ci danno fastidio nel senso che neoprene è comunque un tessuto molto caldo e se indossiamo capi mari troppo lunghi rischiamo le giornate estive di soffrire il caldo i pantaloni in neoprene tipo questo che è un pantalone corto se guardate ha un taglio particolare è un taglio studiato per essere indossato da seduti se guardate la parte alta della vita è tagliata in modo comunque da garantirsi quando siamo in posizione seduta dentro al kayak di avere il neoprene che ci arriva fino quasi a metà schiena quindi siamo tranquilli che la zona dei reni quando siamo in canoa è sempre sufficientemente protetta un altro capo molto usato nei mesi estivi è il pantalone che unisce il tessuto al neoprene quindi abbiamo un bel pantalone bermuda in tessuto e internamente abbiamo un pantalone simile a quello di prima che però ci arriva appena sotto al ginocchio è una lunghezza sufficiente per darci anche una protezione alla zona del ginocchio che tante volte in torrente è soggetta a essere strusciata contro o i premi posce della canoa o eventualmente se scivolo o se devo nuotare in fiume tante volte col ginocchio vado a grattare sulle sulle rocce quindi un pantalone così anche se simile a un costumone estivo comunque ci dà una buona protezione sia termica sia fisica nel senso che ci protegge il ginocchio un terzo capo che si usa molto nei mesi invernali è il pantalone in neoprene però lungo fino alla caviglia questo ci dà un'ottima protezione perché in caso di rovesciamento e quindi di nuoto in fiume nei mesi più freddi ci garantisce di non perdere temperature di non perdere calorie e calore e quindi ci consente di nuotare tranquillamente anche nelle acque più fredde questi pantaloni a differenza di quelli che abbiamo visto prima generalmente appunto perché sono invernali sono confezionati con un neoprene che va dai 1,5 mm fino ai 2,5 mm il neoprene 2,5 mm è sufficientemente spesso per darci un'ottima protezione un'altra caratteristica dei pantaloni neoprene lunghi è quella di avere una protezione sulla zona del gluteo che è quella che viene sollecitata di più dall'imbottitura del sedile o anche quando mi siedo sulle rocce e hanno un particolare neoprene nella zona delle ginocchia in genere è un neoprene diamond che è un neoprene particolarmente robusto e resistente all'usura un'altra caratteristica dei pantaloni neoprene è quella di avere una cucitura particolarmente stretta in zona caviglia perché non entri acqua dal basso anche questi hanno un taglio che consente di avere il neoprene che arriva bene in alto sulla schiena perché è molto importante avere la protezione della zona dei reni e dei lombari se venite a trovarci nel nostro negozio di treviso vi consiglieremo perfettamente potete anche seguirci sulla nostra pagina di facebook o zone kayak o seguendo il nostro sito web www.zonekayak.com